Chi inquina paga e chi deve assumere scelte ha il dovere di farlo. Dovrebbero essere le parole d'ordine per non bloccare infrastrutture nevralgiche per la sicurezza e lo sviluppo del territorio. Se ANAS avesse deciso subito, senza attendere quasi un anno, sarebbe iniziata la cantierizzazione della 275 e forse più rapidamente ci sarebbe stata la decisione di come eventualmente bonificare le discariche di Alessano e Tricase, fermo restando che solo al raggiungimento dei territori in questione si sarebbe e si potrà comunque trovare una soluzione. Se a metà novembre con discariche già a conoscenza si è fissato il termine poi disatteso del 31 dicembre, ora più che mai occorrerebbe una mobilitazione di regione e parlamentari affinché non si eluda anche il 29 gennaio. Fa bene la procura chiamare in causa la regione per una bonifica anche se relativamente a questa, la stessa ANAS aveva già assicurato che sarebbe stata realizzata con i risparmi d'asta. A questo punto sarebbe necessario un intervento del prefetto affinché tra comuni interessati, regione e privati si apra un tavolo per un accordo che metta in sicurezza il progetto e si avvì la cantierizzazione in vista della decisione dell'ANAS da qui a due giorni di individuare quale gruppo imprenditoriale incaricare per poi ufficializzare il progetto esecutivo in vista dell'inizio opera.